Grazie Presidente, innanzitutto dichiaro il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno, non tanto per la prima parte, che di fatto noi ne stiamo discutendo in questi giorni anche con il piano industriale che è agli atti in queste sedute e in buona parte si sta dando almeno un'inversione in tendenza importante nel futuro, nel ciclo dei rifiuti. La parte sicuramente più interessante di questo ordine del giorno è la seconda quando indica intervenire presso la Regione Lazio affinché semplifichi le procedure assicurando certezza nei tempi ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione, volte al rilascio dei titoli autorizzativi. Effettivamente ci sono delle procedure molto articolate che noi con gli impianti di compostaggio, i due impianti di compostaggio che abbiamo programmato ne discutiamo, abbiamo presentato tutta la documentazione nel 2017, alla fine di quest'anno, entro quest'anno comunque verrà bandita la gara, c'è stata l'aia positiva da parte della Regione Lazio, ovviamente sono due impianti che sono una parte di quello che bisognerà fare, ma lo dico semplicemente perché i tempi sono stati oggettivamente molto lunghi e andare a impegnarsi per far sì che queste procedure vengano in parte un po' accelerate e velocizzate fa sì che si arrivi ad una soluzione più rapida del problema annoso e ovviamente che c'è da tantissimi anni a Roma della mancanza degli impianti, questa amministrazione in parte qualcosa la sta facendo, però se ci fosse un aiuto da questo punto di vista riusciremo sicuramente a essere più veloci a riuscire a risolvere il problema nel profondo. Grazie Presidente.